Che ricetta prepariamo oggi? Un bacione con farina, mozzarella, un po' di prosciutto, prezzemolo, uova. Si fa l'impasto, si fanno riposare per qualche minuto e poi si devono friggere, fatti come polpettine. È una ricetta tipica di Ferrandina questa? Sì, certo. La facciamo anche in una maniera ancora più... Che prima si mettevano solo farina, prezzemolo, parmigiano si mette anche. Dovrebbero essere buoni. È una tradizione antica che va sempre. Chi ti ha insegnato a fare questa ricetta? Anche i nostri genitori li facevano, quindi è una ricetta antica da tantissimo tempo, tantissimi anni. E in questa coppa che ci sta? Allora, qua abbiamo pulito i lambacioni, poi si fanno stare in acqua fresca dopo cotti, poi si passano al passatutto e poi si mettono dei condimenti, si fanno stare un 24 ore nell'acqua fresca che diventano più dolci se no sono un po' amari. E giustamente poi si fa questo imbasto, questo condimento che ho spiegato. Mozzarella, parmigiano, uova, prezzemolo. La fai spesso questa ricetta, oraramente? Qualche volta, qualche volta, anche nelle feste si fanno. Quindi nelle feste si fanno? Sì, certo. Sono delle ricette antiche, però sono buone. Bisogna provarle. In genere a te ti piace cucinare? Certo, certo. Sono una cuoca, diciamo, mi piace cucinare. Ma per fare questa ricetta sei uscita stamattina a comprare gli ingredienti o avevi già tutto in casa? Ho comprato solo le mozzarella per mettere un po' fresche, poi il parmigiano ci sta sempre a casa. E' tutto buono. Tutto procede. Allora, sto tagliando una mozzarella. Poi devo aggiungerla, poi devo aggiungerla nell'imbasto. Allora, poi devo prendere il parmigiano. Allora. 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 Mettiamo un po' di aglio tritato col prezzemolo, si mette un po' di sale, un po' di bolla, una marina, un po' di bolla, che ricetta tipica di Ferrandina prepari anche? E che posso dire, anche i zucchini si fanno più o meno in questa maniera, le zucchine senza cuocerli, tagliate, fatte a piccoli dadini, e si mettiamo la farina, le uova, parmigiano, un po' di sale, prezzemolo, e poi quando si possono friggere. Per un chilo di lampone, un bacione, bisogna mettere un tre uova, tre uova e mettere bene. La farina quando basta, mettiamo un po' di sale, e poi metto anche un pizzico di un po' di lievito oppure un pizzico di carbonato, che deve mettere un po' di sale, perché basta, un pizzico. si possono far riposare, in 10 minuto un quarto d'ora e poi con un cucchiaio si prendono dei piccoli mettiamo un po' di sale tu cucinavi pure da piccola? si da quando avevo 14-15 anni eravate una famiglia numerosa? eravamo solo in quattro facevo anche il pane fatto in casa chi te l'ha insegnata a fare il pane? e mia madre a quei tempi si bastava con lievito quindi si portava al forno per farlo cuocere poi si doveva far lievitare per un paio di ore e poi si russonava e poi si portava al forno allora l'imbasto dicevamo che l'ho preparato non serve l'imbasto ok tu hai sempre fatto la casalinga? hai sempre no ho lavorato ho lavorato in Germania e poi abbiamo avuto il bar che ho lavorato 27 anni al bar in Germania hai imparato qualche ricetta di là o cucinavi sempre italiano? ma sempre italiano perché le ricette tedesche non è che ci piacevano tanto pure le patate, gli uste cioè un'altra cucina che all'italiano non è che fa tanto siamo abituati alla nostra cucina che ti piace cucinare di più, primi, secondi oppure i dolci? faccio qualche ciambella anche con la mela quindi viene sempre bene delle cose diciamo la ciambella, la pasta al forno, la pasta asciutta il brodo, tutte le cose cavatelle e rave sei fare la pasta fatta in casa? si anche le orecchiette sto facendo qualche volta le orecchiette anche il tegamino sono molto buone come si fanno? e devi fare il ragù normale con la carne o con le polpettine e poi si mettono un po' di mozzarella e si mettono nei tegamini di creta e si mettono al forno tu pensi di essere brava a cucinare? no almeno chi ha assaggiato la mia cucina non dico che sono una professionista però mi arrangio in genere usi cibi freschi oppure anche quelli congelati? ma di più freschi hai una dispensa in casa dove tieni cibi? o li compri tutti i giorni e esci tutti i giorni a comprarli? non è che abbiamo tante cose, tante mezze in casa i negozi sono vicini quindi uso comprare un poco ma freschi ci troviamo in un fondo che posso uscire tutti i giorni ok penso che va benissimo adesso la fai riposare o già li friggi? la facciamo stare per un dieci minuti almeno e poi si possono friggere con un polpettino quindi diciamo che io sono sempre la signora che ho preparato l'ambasciano giustamente all'età di 14 anni mia madre andava a lavorare nei campi e io facevo la casalinga a quell'età e quindi si facevano i cavatelli fatti in casa si facevano la lasagna si faceva un po' di tutto a quei tempi non c'erano tutte queste cose di adesso bisognava adattarsi bisognava imparare che poi a 17 anni mi sono sposata quindi sono stata in Germania e abbiamo vissuto ancora un'altra vita lavorare e tutto quanto e adesso mi trovo bene che uno impara delle cose ed è questo quindi hai fatto tanti sacrifici tante cose che uno da piccola le ha imparate facevo la casalinga stavo attendo a mia sorella che era più piccola e cucinavo i tuoi genitori lavoravano tutte e due? tutte e due, si che lavoro facevano? i campi la giornata quando trovavano a fare qualche giornata di tutto e di più a raccogliere l'oliva a fare di tutti i mestieri e quindi bisognava adattarsi a imparare in Germania che lavoro facevi? in Germania in una fabbrica di mobili radio, televisione mobili sono stata otto anni mi trovavo anche bene là però è più bella l'Italia perché poi sei tornata in Italia? perché non c'erano le scuole in Germania avevi figli? tre quindi non potevo più lavorare e si è dovuta tornare in Italia abbiamo avuto il bar per 27 anni ci siamo sacrificati anche a lavorare per conto nostro però però nonostante tutto facendo i sacrifici facciamo una vita modesta che adesso siamo pensionati e adesso che stai facendo? adesso facciamo la frittura di questi lambarcioli vengono come tipo polpetti si prendono ma si mangiano per antipasto per contorno? si possono mangiare anche per antipasto anche dopo per contorno prima hai detto che hai usato le uova fresche per fare si l'ho comprato ieri sera da uno che tiene le galline proprio e vai sempre da lui a comprare le uova? si si abitano sopra la casa nostra oggi per pranzo che cosa hai cucinato? oggi abbiamo fatto il riso al forno con le patate la mozzarella un po' di prosciutto e poi la focaccia la focaccia col pomodoro l'hai comprato o l'hai fatta in casa? ho comprato solo la massa per fare la focaccia i pomodori li faccio io i pomodori pelati fai la salsa? si anche e i pomodori ce li hai tu? i pomodori pelati che li ho fatti a agosto dove li hai fatti in campagna? e li compriamo i pomodori e giustamente poi si fanno si lavano si fanno si pelano i pomodori poi si mettono nei vasetti e si fa la bollitura almeno per tre quarti d'ora e li puoi tenere anche un anno perché sono buoni si mette il basilico ecco li fai in inverno e in estate questi lambacioni? i lambacioni si vendono diciamo più in inverno però è una cosa che si possono fare anche l'estate i lambacioni si possono anche tenere li puoi mettere anche in un secchio con un po' di sabbia si mantengono freschi e li puoi fare anche l'estate se no si seccano adesso è il periodo che ci sono soprattutto quando friggono poco tempo? beh ci vuole devono ben essere rosolati devono friggere non troppo l'olio bollente se non vengono bruciati e crudi dentro devono friggere in una maniera l'olio deve essere in una temperatura diciamo non troppo bollente e riescono a venire bene come potete vedere comunque si viene messi sulla carta si sulla carta da da forno che si assorbe l'olio quindi adesso la ricetta è finita insomma la ricetta è finita si possono solo mangiare si mangiano sia a pranzo che a cena? uno quando vuole anche il giorno dopo? si si possono mangiare anche per il giorno dopo si va vanno anche bene al limite uno li può riscaldare nel fornetto